Mi fa molto piacere dire che il CSR Manager Network sta aiutando una rete che si chiama CSR Native a sviluppare un'iniziativa che si chiama Mappa della Sostenibilità, ma non solo. L'idea è che questa rete di 200 studenti universitari che studiano e vivono in tante città diverse riescano a intercettare le aziende sostenibili attraverso un'analisi di quello che fanno. Col CSR Manager Network sono stati rivisti criteri che non sono criteri ma più che altro strumenti utilizzati dalle aziende. Se le aziende hanno almeno sei di questi strumenti vengono inseriti nella Mappa. Una cosa non con base scientifica, ma un'attenzione dei giovani a tutte le imprese che offrono la possibilità di sviluppare progetti sostenibili e quindi anche per loro particolarmente interessanti.